Voglio raccontarvi un po' dell'intervista di Sgarbi Una persona che voi dovrete intervistare, tra l'altro Allora, qui non fingevo Io non sapevo che l'intervista sarebbe avvenuta in quel momento Sgarbi! Allora, l'introduzione Innanzitutto, secondo me, la scelta vincente è stata affidare l'intervista a me e a Marco Perché io e Marco ci divertiamo sempre a fare queste cose E per noi era una sfida e a noi piacciono le sfide Quindi mi sono divertito, bravi Io non sapevo che fare Io la volevo buttare sul serio perché, come avevo già detto, mi pare ieri Quando Sgarbi si ritrova di fronte un ospite che sa di quello di cui parla O comunque lo tratta seriamente Lui rimane serio Quindi... La tormenta, Vittorio Sgarbi Greve! Greve! Buonasera, Vittorio Buonasera, Vittorio Grande Mario Grazie, Mario Stramatizzando Proprio nel backstage Mio fratello mi racconta questa storia che non sapevo Quindi ho detto, mi sai, gli dico questa come prima domanda La prima parolaccia Da piccolo L'ho detta Come l'hanno convinta di andare? Con i soldi, Jake? Madre, sentendo la data in tv Cos'era? Cazzo Vabbè, è una piccolezza Una parola del corpo Mi presento in 10 secondi Ho fatto di questo la mia carriera Penso la volgarità sia uno degli strumenti Che attirano più l'attenzione Infatti la mia prima domanda Ovviamente io vivo su YouTube E tutto quello che so di te Sono i momenti più focosi C'è Erbero Sgarbi E insieme Che cringe Bronev, non so chi sia insieme C'è Erbero Sgarbi li conosco E insieme non... Chi è l'ospite? Di cosa stai parlando? Comunque prova a guardare l'intervista Magari ti garba Non attaccarti alle figure ai pregiudizi Magari ascolta Zucca vuota Quanto è importante per te Arrivare a un punto E dire non mi interessa Se la persona con cui sto interloquendo Reputa come non civile La mia comunicazione Se comunque devo dire la mia Non me ne frega un cazzo Immaginavo una cosa del genere E poi ha detto cazzo La mia prima parola No, non so Era un po' macchinosa la domanda Ma la verità è un'altra Che io ero... Avrò avuto sette anni Otto anni Stavo in un piccolo paese In campagna E la mia casa Che era la piatta Poi Sgarbi c'ha sempre Questo vizio di mettersi Il microfono nel taschino Dovunque Ovunque vada Ovunque vada Microfonone Qua E poi lo riprende sempre in mano Quindi è una tecnica Che può essere utile Ma che trova inutile Subito dopo Stavano i miei genitori E di fronte alla scuola Io sono arrivato alla scuola Con gli occhiali Non ce ne aveva nessuno Era il 1959 Figurati E c'erano nella mia classe Dei ripetenti Figli di famiglie Oddio Un conto è Sgarbi Che parla di arte Un altro è lo Sgarbi politico Non ha ancora detto niente Stevmore Porco d'Inci Ha detto qualcosa? No Sta parlando tra l'altro Della sua infanzia Dio madonna Nel 59 È diventato Parlamentare? Un attimo Dagli tempo Montadine povere Quindi non molto Attenti allo studio C'era uno Di otto anni Uno di undici Uno di dodici Insomma Grandi rispetto a me E per Una specie di Rabbia di classe Uno di loro Che sembrava Bossi Aveva già la barba Sembrava il lupo Ezechiele E lì va davanti Dal cancello di casa E mi diceva Carogna Carogna Io da allora La prima parolaccia L'ho patita Me la ricordo Ecco ma è quella Che ho detto io Non lo so Forse quella più famosa L'ho detta Nell'89 A una preside Del liceo Virgilio Che c'era la poetessa C'era la autora Di coglioni Po le poetesse Tra i poeti E quindi la poetessa Leggeva questa poesia C'erano degli arbusti Delle cose Io stavo lì seduto Eravamo da Costanzo Lei era tutta vestita Mattillata Quindi la metà strada Fra una figura Un po' Amiccante E la poetessa Io stavo zitto A un certo punto Vianello Comico che è morto Dice a Costanzo Ah ho visto Sgarbi Fare una smorfia Non avevo detto niente Educatamente E allora Dice ma Sgarbi Lei cosa pensa Di quella poesia E non era niente Dico c'era l'arbusto L'hai visto uno Che dà un calcio All'arbusto Che cazzo Che cazzo Non avevo detto cazzo Allora lei dice Scusi Ma lei non ha capito niente Lei è un asino Lei è un cavallo Le ho detto Si parla dell'89 Non erano proprio così Sdoganate in televisione Le parolacce Fu anche un po' lui A sdoganare le parolacce In televisione Perché ruppe un po' Questa sacralità Poi io vabbè Sulle parolacce Lo sapete C'ho una politica mia Proprio Personale Si devono dire E basta Punto Io poi non sono educato Non mi garba l'educazione Non mi garba molto Cioè l'educazione Non si dimostra Non O dicendo le parolacce Secondo me Cioè le parolacce Fanno parte di noi Sono il nostro DNA L'unica cosa Con cui concordo Probabilmente Dello sgarbi Sociale E politico Si è anche sdoganato il trash Cosa che invece Apprezzo un po' meno Ma lei è un asino E lei è una mucca Ma lei è un asino Ma lei è un asino Ecco il formalismo Non mi piace Bravo Fantwin L'educazione sì E poi anche lì No no Sarei un po' ipocrita No è che io proprio Sono un disastro Per queste cose No non sono proprio il tipo Un asino Un po' etico E lei è una stronza Ma una bomba Era l'89 E dall'altra parte Nel frattempo Nascevo io E quindi la prima parolaccia Pubblica Però come tirata fuori Estratta da questa Rompicoglioni È stata stronza Dopodiché Lei mi ha querelato E io E lei mi ha querelato E lei mi ha querelato È andata così Io questa cosa Non ho capito Mi sa che Sgarbi era talmente assorto Dalle sue stesse parole Che non ha sentito La domanda di Marco Quanti anni avevi? E lei mi ha querelato Che vuol dire Vabbè Ancora la lira Io ho querelato lei Per cinque asini E lei per uno stronzo Ora nella favola Io ho pagato Sessanta milioni a lei E lei Venti a me Quarante Sono ridotto la pena Quindi Sei a cinque asini Vadevano meno di uno stronzo È una stronza E devo dire che stronzo vale Anche perché poi stronzo Come dicono a tempo Non è una pallaccia Probabilmente È una condizione dello spirito Cioè uno che non è stronzo Non è nessuno Cioè non sei neanche uno stronzo Cioè capito Uno cos'è uno stronzo Uno stronzo Non è uno cattivo È uno Che ha delle sue capacità È uno che fa il male altrui E il bene proprio Quindi il preside di una scuola Il Berlusconi Il direttore di un giorno Berlusconi ce lo mette Sempre nel mezzo Sempre Uno che ha potere È stronzo Uno che non ha potere Non lo è Sì queste sono le classiche sgarbate Beh sapete Lui è arrogante Strafottente Poi ha un carisma enorme Fonde tutte queste caratteristiche Crea sempre questi Queste frasi Questi motti Queste punchline Molto 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 Virali Molto forti No? Da quel punto di vista Ha una personalità Veramente forte Per cui non è un insulto Io l'ho spiegato ai giudici Non hanno capito un cazzo Mi ricordo La splendida difesa È discutibili Senza dubbio Noi non stiamo parlando Ragazzi della persona Cioè io non condivido Niente con lo sgarbi Politico Lo sgarbi che osserva La società E la commenta Io proprio sono All'opposto di sgarbi Da quel punto di vista lì Lo sapete bene Però sono molto attratto Dalla spettacolarizzazione Di certe frasi Del salire a teatro E creare il caos Sul palco E quindi Indubbiamente Ne sono rimasto affascinato La mia opinione su sgarbi Non cambia di una virgo Raccontesti alla zanzara Del pezzo di merda Travaglio Mi pare Che è una difesa Sul terriccio Che crea la vita Una cosa di Non l'hanno presa Quanto per Da un lato Stronzo Ha questa componente Di atteggiamento Di uno Che non è Un coglione Uno stronzo Uno che ha un suo potere Merda Pezzo di merda È più una cosa Insomma Non propriamente Allora io Ho detto Pezzo di merda Travaglio E lui mi ha Quellato Allora Mi condannano A 35.000 euro Di Condanna Insomma Di pena pecuniaria E mi intervistano In televisione Dice Scusi ma Lei Non è pentito Di pagare tutti questi soldi Per le parolacce Che dice Dico sì Sono pentito Non è un pezzo di merda È una merda intera E lui mi ha chiesto Altri 40 Quindi mi ha costato Da quella volta Non mi occupo più Chi è questo qui Non me ne occupo più Però andò così Che poi la merda Di per sé Non sia neanche essa Cattiva Però la merda Propriamente Buzza Ma sai Lo stronzo Lo stronzo Tecnicamente Che poi ragazzi Cioè Per me Parlar di queste cose È oro Cioè A parte che Ogni volta che L'ho detto anche ieri Ogni volta che andava a scuola E si citava Uno studio artistico Un libro Soprattutto sul novecento Una critica d'arte A una determinata opera Tutti i professori Erano concordi Nel valutare Bene Sgarbi Su quello non ci si può dire niente Però era affascinato Da proprio Dalla naturalezza La costruzione Di questo personaggio Che liberamente Amabilmente Con questa dialettica Parla di stronzi Merda e tutto Guarda bello questo frame È una parola Che non esiste Cioè È anche reclinabile Cioè Stronzo è stronza Quante sono Cioè Facciamo un'ipotesi Una donna bellissima Bella Bella Ti guarda Tu la guardi Tu la vuoi Lei La dà a me Non la dà a te È stronza per te Ma non è stronza per me Certo Quindi non è un dato oggettivo È transitorio La stronzaggine è relativa Se la dà a te È stronza per me E viceversa Quindi non può essere detto È un atteggiamento di superiorità Essere stronzo Sarà assurdo Ma a me Sgarbi nel 2003 Tipo ha fatto scoprire i graffiti Ha fatto un'introduzione In un libro Dedicato alla street art Interessantissimo Una cosa positiva Sei uno stronzo Se sei uno che non vale niente Che non vale un cazzo Tu sei neanche uno stronzo Così L'offesa che ho pensato Più grave Non è neanche stronzo È Tu non sei Neanche Neanche Non sei Neanche Ma questo l'hai imparato Attraverso tutte queste vicende legali Lo suggerisco Perché ho avuto Io sono il privatista mondiale Delle guerre Ho avuto 677 E ne ho vinte Forse più della metà Però non soffri molto l'ansia Per le guerre alle Penso che dopo Le prime cento Ti passano In compenso ho elaborato La teoria della capra Per cui sono diventato Una parola d'ordine E nessuno No tra l'altro In quel di Twitch Che ora non ha più Questo file Ma lo troviamo per intero Nella puntata dei Boscar Non ha censurato stronzo Ma ha pezzo di merda Che tra l'altro si sente ancora Tutti quella è la per capra La capra è come un complimento Mi dica capra Mi dica E ci piace Il giorno trovo qualche madre Il mio figlio Vuole essere chiamato capra Quindi è un complimento E così io risolto Che stronzo Ti dico capra Ma anche stronzo Lo rivaluterei Merda non lo so È più difficile Ma io mi chiedo una cosa Ma Noi ti abbiamo sempre visto In televisione Sempre focoso Sempre diviso tra Politica Spettacolo Ma te da ragazzino Hai citato le tue vicende In quel paesino Eri così Oppure a un certo punto Ti sei acceso una chiama No All'estanzo L'educazione di mia madre Criticavo Mi davano un pugno Cioè tu dagli le due Quindi la mia Io ho avuto la madre Che mi hai educato Alla violenza Ma mia madre Nero un temperamento Molto E quindi Ho vissuto sempre bene Io Non sono mai stato infelice Un momento Cioè ho avuto molti problemi Molti scontri Alcune amarezze Alcuni attacchi Però nel complesso Io ho una visione Molto positiva Del mondo Cioè non soffro Né nulla Qual è la tua visione? Non mi posso permettere Di essere Cioè credo che L'infelicità Sia un lusso Io non posso Permettermi di essere infelice È bello perché Sgarbi È l'unico Intervistato Che ho avuto Tra le mani Che fa questa Che utilizza Questa tecnica Ovvero Lui integra Le domande Alla risposta Cioè Te gli fai una domanda Lui continua a parlare Collegandosi Alla risposta precedente E Si collega Direttamente Alla risposta precedente Con la nuova risposta Quindi È come se non stesse Ascoltando la tua domanda A volte non l'ascolta davvero Però fa tutto di fila Non so se l'avete notato Da questa serie di risposte Perché l'infelicità Sia un lusso Io non posso Permettermi di essere infelice E quindi Chi accadrebbe altrimenti E quindi sono Vivo così sereno Tranquillo Qui l'ha gustato Per esempio Marco Però qui no Qui si collega Cioè Non soffro di nulla Qual è la tua visione Io non mi posso permettere Di essere Cioè credo che L'infelicità Ecco Qual è la tua visione Lui stava raccontando Questa cosa E poi credo che risponda Alla domanda Ma sembra un discorso unico L'uscità sia un lusso Io non posso Permettermi di essere infelice Qui l'ha gustato Chi accadrebbe altrimenti E quindi sono Vivo così sereno Tranquillo Poi se mi rompono i coglioni Cioè io sono come Sai quelli Quei medicinali Non agitare Non mi devi rompere i coglioni Se tu agiti Io sono sereno Non disturbo nessuno Quali sono le cose Che ti rendono più felice? Le cose che ti rendono felice Una volta Erano Le ragazze Nel senso che la ragazza Per me era La varietà del mondo Per cui ho sempre pensato Che la monogamia È una malattia grave Insomma Uno che sta solo con una Deve essere malato Con tutta la figa che c'è Non stai con una sola Io non sono ovviamente D'accordo con questa visione Un po' troppo semplicistica Stessista Però vabbè Scappi Poi su quello Sono andato dritto Fino a quando poi Varie malattie Mi hanno un po' rallentato E per il resto Dal punto di vista Di quello che voi Non potete capire bene È la scoperta Di opere sconosciute Il mondo è pieno Di capolavori meravigliosi Che non sono mai stati capiti Scoperti E come andare alla caccia Qui sto guardando le domande Mi ero preparato Una sola domanda Che è la prossima Credo Quindi sì Una domanda Me l'ero effettivamente preparata Entrare in una chiesa In un museo In un deposito Vedere cose Che tante ce ne sono L'umanità ha un passato Che è più ricco del futuro Qui si possono creare tante cose Gli artisti Giovani Fanno cose nuove Grazie Fata Morgana Grazie E sulla vita di coppia È un po' particolare Per usare un eufemismo Chiaramente Ho studiato male È una grande eccitazione Ma anche per questo Che accetti di venire Magari qua A scoprire il web Il mondo del web Perché Ma questo me ne frega un cazzo Esatto Immaginavo E qual è l'ultima scoperta Artistica Che ti ha reso Veramente felice Magari degli ultimi tempi Oggi sono stato Per esempio A Fidenza Dove mi ricordo Che portai molti anni fa In tema appunto Di figa Una Forse esiste ancora Credo Maddalena Corvaglia Esiste Ah sì La Corvaglia La Corvaglia Era fidanzata con qualcuno Io una sera L'ho presa L'ho rapita Mi piaceva fare A me questa roba Fa spavento Di Sgarbi Che quando una persona Viene cancellata Dalla sfera pubblica Dalla televisione Per Sgarbi Non esiste più Cioè Non so se esiste ancora Cioè Non è che è morta O vive No Se sparisce Dalla televisione Vuol dire che è scomparsa Che non esiste Corvaglia Era fidanzata con qualcuno Io una sera L'ho presa L'ho rapita Come mi piaceva fare Allora E Lei è sempre stata Forse fra Milano E Roma E le ho fatto fare L'automobile Dei luoghi Della Padania Non Padania E stiamo arrivati A Fidenza Sì perché lui Sgarbi dice Questo l'ho scoperto Grazie alla Zanzara Che non è la Padania Ma la Padania Come l'Albania E l'ha inventato lui E vabbè Andatevi a leggere la storia La nebbia Un tempio meraviglioso Mi ricordo che Nei suoi occhi C'era una qualche emozione Pensare che c'era Delle cose così belle Così vicine Ora oggi Sono tornato a Fidenza Per andare dal fratello Di Genegnocchi Che ha un bellissimo ristorante Che si chiama Gliozzi L'uscilla si è abbonata Per strano ho incontrato Il Vescovo Il Vescovo è uno simpatico Che si chiama Ovidio Il quale mi ha detto Sgarbi Lei è qua Vuole vedere la chiesa Che era chiusa Me l'ha aperta E ho visto Le opere che conoscevo già Nel passato Ma restaurate Pulite Mette in ordine Spostate Il museo sistemato Veramente un uomo Straordinario Con passione Cioè pensare che un Vescovo Non è soltanto volto Alle cose del cielo Ma capisce che il cielo E Dio E nelle cose che ha davanti Negli oggetti Nella conservazione Di questi beni Che gli sono toccati Mi è sembrato formidabile Quindi sono stato con lui Un'ora E abbiamo fatto questo giro Per queste cose Molte poco conosciute E alcune bellissime Quindi vi studerisco Ad andare a Firenze Diciamo 45 minuti Ciao Fossa Ma Dov'è Fossone Cosa dice? Tutto bene? Va bene Andiamo avanti Questa domanda Perché io amo molto il fumetto E studiando autori Di fumetti Anche del passato Mi sono ritrovato A leggere Qualcosa di tuo Su Iacovitti Sì Bello Un genio Allora Io Dico la verità Questa era l'unica domanda Che mi ero preparato Perché c'era questo libro Del 2001 Ma Io non mi aspettavo Una reazione così entusiasta Di Sgarbi Sul fumetto So che sua sorella Lavora spesso col fumetto Lui ha scritto Tanto di fumetto Ma non credevo Che improvvisamente Scattasse Completamente A questi libri Cioè C'è proprio Cambiato il mood Totalmente A leggere Qualcosa di tuo Su Iacovitti Sì bello Un genio Io amo la follia Sì Iacovitti è un genio Lo conoscevo bene Ma c'è un Alan Ford Eccoci Di cui sono protagonista io Sì sì me lo ricordo Io ho letto tutti L'Alan Ford E soprattutto quelli storici Quindi me lo ricordo L'episodio con Sgarbi Ho visto pure Bravo Sì 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 E poi mia sorella Che è editrice Ha comprato Linus Sì lo so E il direttore di Linus È Igor Bravissimo anche lui Poi c'era quel bravissimo Ma perché ti piaceva Iacovitti? Tra l'altro lui Mi hanno raccontato Che era un po' ghittizzato Perché era di destra Uno dei pochi fumettisti di destra Sì Non era di sinistra Insomma Ma sai perché Tutto questo mondo Fatto a salami Meravigliosi Piedi lischi Piedi lischi Una fantasia Veramente Ma com'è contento Di fare Iacovitti Un'altra persona Boh veramente Cioè vabbè Non riuscirò mai A capire Questi personaggi qua Ragazzi Totalmente È veramente difficile Appena ti dedicati una vostra Bisogna che mi ricordi Sì o no Con Igor Ragazzi lo sapete È stato ospite di questo canale Io ho lavorato Per Linus Insieme a Guarnaccia Abbiamo fatto delle cose insieme Ho scritto degli articoli per Linus Quindi insomma So bene la storia editoriale Della rivista Poi Prima dell'acquisizione Di Oblom Insomma Pochino so Ho avuto una vita Prima di Twitch ragazzi Ce l'ho avuta Anche durante Era una fantasia libera Non era conformista Poi che fosse di destra o meno Destra e sinistra Servono soltanto per dire Da che parte devi andare In fondo a sinistra Per andare a cesso In fondo a destra Per andare a cesso Per le signore Questo è la destra e la sinistra Però Iacovitti Questa carina è un po' Una cazzata Anche perché lui è sempre Stato un politico Di destra Non ha mai combattuto Battemattare Di cosa stiamo parlando Oblomini formidabile E invece C'era un grandissimo fumettista Che si chiama Brecce Oddio Aspettate Ora parliamo anche di questo Magari ha cambiato idea Sentendo gli ultimi interventi In Parlamento Non mi sembra Secondo te Dario Se Sgarbi Non avesse questa parte pazza Del suo personaggio Avrebbe avuto comunque La stessa fama No Che questo suo modo Di essere Sia solo in funzione Della fama Sì Cominti formidabile E invece C'era un grandissimo fumettista Che si chiama Breccia Madonna Un genio Breccia Veraviglioso Ingestibile Breccia ragazzi Ora vi faccio vedere due robe Era veramente Ci credono i garba sgarbi C'è praticamente Caravaggio a fumetti Veramente un mostro Un mostro davvero Breccia sublime E poi Pazienza Anche secondo me Pazienza Pazienza Era l'opposto di Iacovitti Dal punto di vista Della sua visione politica Però bravissimo anche lui Quindi interessa il fumetto Beh insomma L'ho guardato così Ecco mi fai con bravo Io penso Che sia la prima volta Che Sgarbi dice bravo A qualcuno Io non l'ho mai sentito Di bravo a nessuno Stranissimo Ha fatto veramente Quasi impressione Perché Non Cioè io Non mi aspettavo Ma aspettavo il contrario Dico la verità Cioè mi aspettavo Che si rivoltasse Praticamente O combinasse Una delle sue corbellerie Vedete come sono pulito oggi Ma Così pacato E tranquillo E rilassato L'ho visto pochissime volte Pochissime volte Pochissime occasioni Iacovitti Dal punto di vista Della sua visione politica Però bravissimo anche lui E poi c'era Beh ce ne sono tante Di formidabili Quindi interessa il fumetto Beh insomma L'ho guardato così Sì certo Ok Fumetto A Come tutto quello Che è a stampa Ricci Incisioni Fumetti Un difetto Che si moltiplica A me piacciono le opere uniche Cioè trovare un'opera Di cui non Potevi far parlare un po' a Marco Ma Marco poteva intervenire quando voleva Ci mancherebbe altre strello pifo Poi addirittura dopo Cerco subito di integrarlo Nell'argomento videogiochi Ma Sgarbi Non ha risposto su quell'argomento La figura E' una gara Mi divertivo Era divertente Non c'è l'eguale Quindi il fumetto Con tutto quello che sta Il disegno ovviamente Del fumettista L'illustratore Può essere formidabile Però La realtà Cioè la cosa incredibile Nei fumetti È che È più autentico Il giornale Che tu hai in mano Dell'originale L'originale È un feticcio Ragazzi Questo un pochino è vero Nel senso La tavola originale È un feticcio Cioè è un oggetto Da collezionisti L'albo invece Soprattutto Se è un albo importante È Riconosciuto come fumetto Cioè riconosciuto come L'oggetto Da leggere Da consultare Un po' è vero Una visione particolare Un po' anche una provocazione Ma secondo me è vero Perché la tavola originale È un feticcio È una tavola singola È il prodotto dell'artista È la matrice Però la storia È l'albo intero Con tutte le tavole Con la narrazione interna Vichissimo Ma il modo in cui il fumetto esiste È moltiplicandosi In cento Duecento Trecentomila copie Quindi la realtà del fumetto È quello che ti tiene in mano Mentre invece le opere d'arte Della loro singolarità Sono creazioni uniche E quindi c'è quella Però non ce ne sono altre Questa è la scoperta più eccitante Ma la qualità Di un disegnatore In un fumetto È certamente Una ragione di felicità Mi viene in mente Un argomento che abbiamo in comune Marco C'è il videogioco Chi è che l'ha detto Obi-Wan che no Mi peccato non abbia risposto Sui videogiochi Fosti stato al tuo posto Avrei provato a riproporre La domanda No perché ci sapeva Un pepe al culo Incredibile E quindi Quando ho visto La non risposta Poli che regala 50 sub Quando ho visto La non risposta Siamo andati avanti Anche perché Ragà Ci sava poco tempo Perché c'è Sempre la diatriba Se il videogioco è arte O non è arte Te cosa ne pensi Soprattutto Cos'è per te l'arte Se c'è un'oggettività nell'arte Una soggettività Che è la domanda chiave No? Qua non so Perché ha reagito così Ancora Non la capisco Del tutto La reazione A questa domanda Chissà perché Forse stava riordinando Le idee Che è la domanda chiave No? No la domanda Diciamo La frase più tipica Di un mondo Che non ha Conoscenza È È bello ciò che piace Tu prendi uno stronzo Che non ha mai capito E visto niente E poi mi dà la risposta Che volevo Volevo esattamente Questa risposta Cazzo Lì ho avuto fortuna La reazione iniziale Mi ha fatto cacare addosso Ma quando ho sentito La risposta Che volevo io Stavo per tirarmi fuori Il cazzo Mi piace qualcosa Per una qualche ragione Come dire Genetica E quindi È chiaro che La bellezza Non può che essere condivisa Una cosa bella È bella per sempre E per tutti Ed esiste nel tempo Poi occorre avere Gli strumenti per capirla Quindi l'altra formula È quella più comoda Quella riguarda Ciò che piace Non ciò che è bene Quindi Occorre distinguere I due livelli È chiaro però Che la comprensione Di una cosa È legata alla conoscenza Quindi hai bisogno Di esperienza Pratica Quindi occorre studio Se non hai Abbastanza conoscenza Io ho inventato La formula Che è Tu sei quello che sai Cioè più sai Più sai più Sì secondo me Abbraccio la teoria Del Era una domanda Troppo ampia E ha deciso Su cosa focalizzarsi Micchia Stiamo facendo ragazzi Veramente L'analisi Approfonditissima Proprio parola Per parola Dell'intervista Ma non l'intervista Sgarbio Ma dell'intervista In generale Sono contento Ma un po' Mi fate paubura Perché State diventando Sempre più esigenti E a me questa cosa Non piace Mi spaventa Devo Iniziare a cagare Sulla scrivania Devo abbassare Devo abbassare il livello Giorno dopo giorno Bisogna stare attenti Bisogna continuare Anzi A parlare di Cazzi sborranti Al pub Per ripristinare L'ordine Tutti i giorni però Tutti i giorni pub Da qui in avanti Tutti i giorni Sei Se sai poco Sei poco Quindi la conoscenza È qualcosa che ci serve Per capire il mondo In tanti settori Alcuni dei quali Sono completamente oscuri Io non ho Molte competenze In tanti campi No qualcazza ragazzi No 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 È evidente Che la bellezza Che è così diffusa Presuppone Che tu abbia Gli strumenti Per capirla E se tu non ce li hai Allora dici È bello ciò che piace Uno dice Preferisco giovanotti A Dante Cazzi suoi E dipende dal fatto Che giovanotti È più immediato E Dante Poi io non stavo dicendo Di me Io stavo parlando Di voi State diventando Molto esigenti Voi Questa è la cosa spaventosa Non tanto per me Sono sempre il solito Non è che cambia molto Però voi siete diventati Sempre più esigenti È veramente un casino Figli di Troia No scherzo Sto scherzando Mi chiede più concentrazione Per cui Non esiste Un dato discutibile Su questo punto È chiaro che non si può accontentare No? Perché tanta gente Si sposa con delle donne brutte? Non si è mai chiesto? Perché quelle buone e belle Non ci stanno Uno si accontenta Di quello che trovo E ho trovato È così drastico Perché quelle belle? Non ci stanno Non ci stanno Prendi quella che ti tocca Cioè 8000 querele È quello che Tu hai bisogno Di molta concentrazione Di molto impegno Se tu ritieni Di non Ma non dicevo a voi Ho detto figlio di Troia A me stesso Ho sbagliato la I No 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 Era figlio di Troia Parcela Ti accontenti di quello che hai Ecco perché è bello ciò che piace Uno Gli piace quello che ha trovato Perché quello che Capisce che può essere bello Può apparire inaggiungibile Inconquistabile E quindi Ecco perché si dice È bello ciò che piace Perché questo Ti semplifica le cose Non hai bisogno Di fare sforzi Di applicarti Non hai bisogno Di cercare di conquistare La conquista di una donna bella Appare difficile Richiede impegno Uno non lo vuole E' convinto di non farcela E si ferma E questo vale anche per la conoscenza Molto pessimista comunque Come visione No nel senso che No no Lo sto dicendo che Si è interessato o meno A dire che uno deve applicarsi Per applicare Dico che La bellezza richiede Lo stesso impegno Di una donna bella Cioè richiede Che uno si applichi Se tu invece Non ti vuoi applicare Ti accontenti di quello che hai Capito Cioè questo La pigrizia Anche nello studiarla L'arte Capisce L'arte richiede Un minimo di applicazione Ecco perché Quello che è bello Ha una sua oggettività Una sua assolutezza Il bello è universale Perché deve essere condiviso Quando è capace Di dire cose Che riguardano Te e me e lui E questo Stabilisce un criterio Il fatto che si dica È bello ciò che piace Non è di per sé Una cosa che uno Deve respingere Ma è una forma di pigrizia Mi piace questo Quindi piace a me Non mi piace quell'altra cosa Quell'altra cosa Magari appena appena Con un po' di sforzo Ti potrebbe dare Piaceri verabiliosi Non vuoi fare quello sforzo E quindi Ti accontenti Di quello che ti piace Guardando il mondo Dal punto di vista di oggi Qual è Secondo te adesso La forma d'arte Più condivisibile Cioè se la condivisibilità Ha un valore Per me ce l'ha tantissimo E secondo me Qui Marco Vuole arrivare All'argomento Che poi Viene fuori Cioè i meme Perché Marco È molto affezionato Ai meme La ritiene una forma d'arte Secondo me Vuole arrivare a quello Anche secondo Dario Altrimenti Non faremo questo tipo Di lavoro Quale delle forme d'arte Che conosci Ha più valore Di condivisibilità Beh diciamo Abbiamo visto Che quello che ha travolto Il linguaggio Coincidendo Con il percorso Dei graffitisti È stato Banksy E quindi Capisci bene Che quello è un linguaggio Che non si può neanche discutere Perché Il fatto che tu lo veda Che tu lo corrisponda Che ti dica le cose Che tu Coindividi Lo fa diventare universale Ma è certo Che Non c'è dubbio Che un dipinto di Giotto Può dare molta più emozione E che Uno pensa Beh Giotto Lo lascio lì È una cosa del passato E quindi Non si applica Questo è il problema Non hanno applicazione A rendere condivisibile Quell'opera là Quindi No L'opera vorrebbe anche parlare Però L'uno la lascia lì Dice vabbè C'è Mentre l'altro Ti viene incontro Cioè La forza di Bansky È che viene incontro A qualcosa Che tu Hai già nella tua mente Quindi È facile condividerlo Il che vuol dire Che va benissimo Adesso faccio la mostra di Bansky A Trento E quindi Non mi sono Non ho fatto polemiche Certo Linguaggio facile È un linguaggio Che è comprensibile A chi lo conosce Quindi oggi Evidentemente La comunicazione I social La velocità Trovano Una corrispondenza Con il sistema Di comunicazione Di Bansky Assomiglia un po' Il fenomeno Dei meme Se ci pensi No? Presente no? Un meme Dell'internet Che viene condiviso E a volte Sono micro opere D'arte Che vengono condiviso Per me sono una delle più grandi Se non la più grande Formale d'arte Adesso a livello di condivisibilità È una pagina a colori Con una scritta Anche comunicativo Anche a livello comunicativo È curioso Cioè in realtà conferma Quello che ha detto Un po' Nell'intervista Sgarbi Perché qua si incuriosisce Subito a qualcosa Che non conosce Subito Istantaneamente Allora si vede un meme Ovunque Meme Per esempio Ecco il tuo capra Un tempo si chiamavano I tormentori Capro meme Sì Adesso si chiamano meme Perché hanno magari Anche un risvolto gravido A questo punto Ha a che fare Con la capacità Di affermazione di qualcosa Ma che cosa si è affermato Come capra Che voi state citando adesso Che cosa per esempio Ti faccio un meme Immagina questa immagine qua C'è una pagina su facebook Che si chiama Immagini che parlano Da sole Se un'immagine metti Una lato faccia Una capra Non c'è bisogno Di scrivere nulla La gente già sa Che tu hai detto Quella cosa là Fine Ti l'ha spiegato In una maniera Lampante Semplice Che arriva al punto Questo bravo Marco Un meme Che richiama Senza spiegare niente Fa strano spiegare i meme Madonna Sì vedi Molto strano Anche se solo dappertutto Però sono immediati Andrebbero fatti vedere Andrebbero vissuti A volte va vissuto il meme Sì 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 è così E ma comunque Non sei un passatista Te apprezzi quindi Io apprezzo qualunque cosa Sì Se poi non mi comunica niente Cioè Credo che il passato Sia pieno di meraviglie Per esempio Voi non avete idea Di quale esperienza Possa essere Andare in una biblioteca E prendere un codice mignato Il codice mignato È pieno di invenzioni Sì non so perché Picchettava il microfono Di colori Di fantasia E pochi vanno a vederlo La verità del bene Il fatto che No ragazzi Spera Ora spiegate i meme Zoomer Buona fortuna Interrompo un attimo C'è riuscito Lundini Secondo me Non facendolo però Questo è avvenuto Sul Ray 2 ragazzi Io mi rivolgerei Al tenente Silvestri Che ha preparato Dei memes Dei memes Fatti a mano Ah già pronti Pronto Roma Firenze Io Ok Quello è uno svincolo Che da una parte Dritto c'è Roma Firenze Io C'è quello Ma è lei È la sua macchina Io Esatto Va a Firenze L'ho fatta Anche Dank L'ha fatta anche Dank Che è questa reazione qua Questa qua È un meme Dank È un meme Dank Va bene Ma come si fa Ma come si fa Cioè è stato detto Meme Dank In Rai A Rai 2 ragazzi Ma di cosa stiamo parlando L'ho fatto anche Dank Io C'è quello Ma è lei È la sua macchina Io Esatto Va a Firenze L'ho fatta anche Dank L'ho fatta anche Dank Che è questa reazione qua Questa qua È un meme Dank Così sì Va bene Grazie Questa Ok Gaino Questo Bellissimo gatto Grazie Ricordiamo che questo è il pubblico Cioè questi sono figuranti che la Rai utilizza come pubblico alle trasmissioni L'Undini li ha fatti intervenire per la prima volta in assoluto in Rai Con delle battute, dei personaggi Ha creato una lore Questo è il pubblico C'è proprio le comparze che appiccicano sullo sfondo nei programmi Oh Sono due ragazze che in lacrime dicono Bellissimo gatto E il gatto giustamente Grazie Sì L'unico faro Unica via Questo è l'ultimo La buona musica I monologhi di Manuela Fanelli Ok quindi sopra c'è Quello che è c'è il discambino? No è 50 cents 50 cents Quindi c'è il 50 cents che dice Così non gli piace la buona musica Mentre fa a valla il fatto che ci siano i monologhi Cioè lui decide Allora Mi date Mi date Topo Ciccio Mi date Topo Ciccio Voglio far duetto con Topo Ciccio Su brividi Grazie Fanelli ti presenti con capelli lavati Con il turbante in te Cioè tutto fa lui Ormai gli hanno dato le chiavi E fa quello che vuole Ma poi c'è un certo punto Topo Ciccio Che mordicchia il braccio di Lundini C'è delle cose boh Si morde la pelle E quindi c'è Topo Ciccio Che giustamente va a mordere Poi secondo me c'è un po' Il rapporto Omo erotico Tra Blanco e Mahmood Io ci ho visto poi magari Una mia Siccome Lundini è avanti Secondo me è un po' Qui si compugina l'Angelus Certo Bimbi Bimbi No la gente è scelto Marilena Picozzi Non vuol dire no Cioè Anche la Fanelli Con il Kalashnikov in mano In questa stagione Game over amico Cioè veramente Hai appreso per il culo Cent'anni di serie Rai Cioè su poliziotti Che dicono le cose all'americana Per inseguire il mercato americano Game over amico Ma di cosa stiamo parlando? Una ventata d'avanguardia Perché palesemente Evanguardia questa La sirena a mano Il vecchio pelato Con la borsa Tutto perfetto Cioè non ho Non ho da dire nulla Boh Cioè io mi immagino Una vecchia Tipo che è sveglia Non so Non si sa per quale ragione Sta facendo zapping Va su Rai 2 E vede questa cosa E crede che sia vero Cioè qualcuno ci sarà finito No? Io Boh Non lo so Va bene Volevo andare in un museo Io sono portato l'altro giorno A Cividale E lì ho preso in mano Un codice del X secolo Dopo Cristo Ma era nuovo Con delle luci Era pieno di memi Era sublime L'idea che Io stesso Come tanti Nella ricerca Di conoscere tante cose Non arriveremo a conoscere tutto E molte cose meravigliose Resteranno nascoste per sempre Voi non le conoscerete mai Quante cose non conosceremo Io poi Sono Avanti negli anni Quindi ne ho viste tante Voi Quante cose Non avete visto Non so tu hai mai visto Un'opera di Bramantino Sì Sì Ecco appunto Uno vede Bramantino Allora L'idea di quanta forza Ci sia nel passato Certo Poi diventa comparativa Dici c'è quella cosa lì E poi c'è la capra di sgarri Beh insomma Il meme andrà bene Ironicamente una la capiscono Pure i piccolini Che non hanno l'impegno Che dicevi tu prima Di andare a vedersi L'altra di Bramantino No no Che la capiscono va bene Resta che comunque Sono entità incomparabili Perché in quella C'è qualche cosa Che ti parla In modo inatteso Inaspettato Che magari non sei curioso Di andare a cercare Però quando Dario se non dici grottesco Non sei tu Beh è un aggettivo Che mi piace utilizzare Anche perché lo sono E perché quello che faccio Molte volte lo è Quindi sì Lo abbraccio E lo amo Poi è una parola Che ho imparato ad amare Con i Grandi Le Boschi Chiaramente Dove a un certo punto Gli stessi personaggi Si accorgono Di vivere in un film grottesco Non la vedi Ti parla Mentre invece l'altro Ragazzi sì che l'ho visto Bramantino Ma dio madonna Ragazzi Abbi pazienza Il problema della comunicazione È che c'è una comunicazione Che io ho praticato Con molta abilità Nel corso degli anni Che va incontro Io vado incontro È necessario Ma è necessario Sì a me piace Oggi è necessario Perché più che altro A tutti i miei colleghi In Parlamento Non capiscono un cazzo Non comunicano Cioè è vero così Io parlo in Parlamento Sono 500 Su 600 400 Allora Uno parla Nessuno se lo fila Nessuno I colori stronzate Io alzo la mano E parlo Tutti zitti Questo naturalmente Alcuni l'hanno capito E da un lato Gli piace Perché si divertono Dall'altro lato Però ti pongono il problema Perché loro Non se ne caga nessuno Non se ne caga nessuno Sono lì Si chiamano parlamentari Parlano nel vuoto Non hanno niente da dire E dicono qualcosa Che non riesce Ad arrivare all'altro Invece io evidentemente Ho elaborato questo sistema Di immediata comunicazione Che è importante Ma questo non vuol dire Che io dica Le cose giuste Vuol dire che La comunicazione funziona Quindi Quello che tu dici L'ammetta anche lui Adesso un personaggio Che ha detto che Praticamente Non dico delle cose giuste Ma le dico solamente Per comunicare bene Perché Cioè Voglio avere ragione Anche magari Senza dire cose giuste Ma semplicemente Per il gusto di dirle Cioè Lo stava dicendo Praticamente Ma è strano Strano personaggio Puttocca E ci riguarda Il metodo Della comunicazione Non la cosa in sé No sì Parlavo del metodo Certo Il metodo È giusto Però la cosa in sé Magari invece Panfilo Maria Lippi È bello Come abbonato È riparato Non siete mai stati voi A San Pietro a Civate San Pietro a Civate È la più bella Chiesa romanica Della Lombardia Si arriva solo a piedi Vicino a Como Devi farti tre quarti di l'ora A piedi O ci vai in elicottero Io mi ricordo Che andai tanti anni fa Con l'esperienza Dobbiamo proprio Rivederci Questo pallone gonfiato Uffa Impressionante Fai tre quarti di l'ora A piedi Arrivi in un punto bellissimo In cui c'è questa Grande chiesa Ecco una cosa come quella Non ti viene incontro Devi andarci tu È esattamente l'opposto Hai capito C'è l'idea che noi Dobbiamo fare gli esploratori Andare a cercare delle cose Io ho girato nel mondo Sono stato in Afghanistan In Pakistan Tu vai a cercare delle cose E beh Non puoi pensare Che ti vengono incontro La comunicazione Ha esattamente Il percorso opposto Cioè lei viene verso di te E questo non viene No no Di prelo Guarda che la stampa Immagina cosa Adesso è stata L'invenzione della stampa C'erano di questi C'erano i maloscritti I codici Se li passavano Uno a uno Cento copie Cinquanta copie Trenta copie A questo punto Arriva Gutenberg Inventa la stampa E tu improvvisamente Puoi avere in mano Un libro Comincia di lì Cioè Gutenberg È il primo Che ha capito Che la comunicazione È fatta di qualcosa Che deve arrivare Da te Che sei fermo Ad aspettarla Oggi noi siamo fermi Davanti a un video O voi siete fermi Davanti a un video Io viaggio come un matto Uno invece sta fermo A un video E quindi il viaggio È quello delle cose Che gli vengono incontro Sono loro che si muovono Il che è tutto sommato Indica Che non c'è Granché da scoprire Mentre invece L'esploratore Va a cercare Bondi sconosciutti Quando Colombo Ha scoperto l'America È partito Per andare non so dove Ed è arrivato A scoperto l'America Questo è quello Che piace a me Cioè andare io Incontro a lei Non aspettare che lei Venga incontro a me Però questo Io credo che Io ho studiato arte In Sicilia E lì Non O comunque Forse ho avuto sfortuna io Ma Sono abbastanza razzista Sull'argomento Comunque non mi hanno Insegnato come innamorarsi Delle cose belle Comunque Non mi hanno iniziato Questa cosa qua Ci vuole un buon professore Quando Esatto Quando Ho iniziato la mia carriera Su Youtube Quindi video Migliaia migliaia di persone Che si creano Questa comunicazione qua Si si è eccitata Tantissimo E là ho capito Che quando tu impari Che per la comunicazione Gianluca Devi andare incontro All'altro E dai anche un valore A cercartene tu Sì sì No no ma infatti Io sono totalmente È veramente il primo passo Dei insegnare alla gente Come andare incontro Una volta che lo fai Andranno loro a cercare Le cose che non ti vengono incontro Come la chiesa Da raggiungere In tre quarti Io Vittorio Vedo questo uomo Da grande carisma Che a volte cerca Lo scontro Mi sono sempre chiesto E non l'ho mai trovato Nella tua vita C'è mai stato un interlocutore Che ti ha messo in difficoltà No no Che non veloce No perché poi Io ho un processo democratico Adesso va detto questo Io sono particolarmente Autoritario e violento Però Sono estremamente democratico Cioè non ritengo Nessuno indegno A fare in culo Non che qualcuno si E gli altri fai Questa mania Sono davvero d'accordo Sono davvero d'accordo Quelli che fanno i superiori E' pieno di gente Che non risponde Che fai i superiori Io non riesco a fare il superiore Io sono superiore Non faccio Bellissima questa Io non faccio Attenzione però Fermi tutti Fermi Scusate Scusate Skip E via Allora ragazzi Non me ne vogliono Ragazzi ecce Ma proprio di pre Non lo tollero Ti ricordo questa qui La dissi Scusi Vittorio C'è un C'è arrivato un fuori programma Fuori programma Una cosa importante Lo dissi a Berlusconi I deputati dicendo Scusi Vittorio C'è un fuori programma Scusi Vittorio Fammi finire Dice Io cari colleghi Ho un complesso di superiorità Io gli ho risposto Io sono superiore Senza complessi Possiamo mandare Vittorio Cosa Cosa tre compagnetti Fibra Cetti Allora non voglio dire cose Magari mi rovinano Ivan in difficoltà No raga Non è che quello Cioè non voleva Che gli non pensano i coglioni Anche Ivan ha detto Che non era d'accordo Con la scelta di Iprea Non lo so ragazzi Per gran bella intervista Hai tirato fuori ottimi argomenti E io sarei andato avanti Mezz'ora Ancora un'altra mezz'oretta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti